La nonnina, la nonnina, la nonna, no, sono tornato, ma questa volta c'è un twist, importante, non sono io che sto giocando, chi è che sta giocando, eh, vuoi dirlo tu, eh, il nipotino ballerito, e sei tu, sei, allora, tu non hai mai giocato al gioco della nonna, no, vero? Mai, ok, per fare in modo che la serie avesse una rinfrescata, ho deciso che farò giocare i miei amici, vi piace questa idea? Se vi piace fatemelo sapere con una bella emoji di una nonna, che non so se c'è, ma credo di sì, sei pronto a partire? Vai, premi play, io ti guido, eh, tu devi essere abile, allora, aspetta, devi mettere difficoltà, no, Pratis non c'è la nonna, devi mettere facile, ok, facile, bravo, ok, allora, lascia musica, non mettere modalità oscura, non mettere extra lock, non mettere incubo, vai, continua, continua, bravo, perfetto, continua ancora, ok, allora, tu dovrai difendere interamente dai miei suggerimenti, perché io devi sapere che sono il nipote preferito della nonna, ok? Un mastro ormai Mamma mia, una roba incredibile Se ti affidi a me, io ti prometto che hai una buona possibilità di sopravvivere, ok? Però non ti garantisco che uscirai vivo, va bene? Eh, speriamo Speriamo di no, perché è anche bello quando no Allora, ascolta a me Ok, iniziamo Allora, ascolta a me attentamente Fermo Ok Allora, uno Allora, capisci i pulsanti e sappi che se tu fai rumore, tipo non toccare il tavolino, fermo! No, ok, scusami Allora, se tocchi le cose, la nonna sente e tu non vuoi che lei senta Ok, ok, ok Non prendere il vaso Posso prendere questo? No, 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 no Girati verso il letto, verso il letto, una cosa importantissima Il letto, ok Sì, ora, se tu guardi, vedi, ti puoi imboscare, premendo E Oh mio! Bravo, bravo Allora, quando tu fai così, ti faccio vedere una roba per farti fare pratica, ok? Quando fai così, la nonna non ti vede, ma se lei ti stava vedendo mentre ti nascondevi Allora ti massacra lo stesso, ok? Ok Adesso apri la porta ed esci Il tavolo non lo prendo No, non lo prendi, il tavolo Cosa te ne fai, un tavolo? Ok Ah! Vai sotto il letto, vai sotto il letto! Sotto il letto! Non t'ha visto, fermo, fermo! Non t'ha visto, non t'ha visto, non t'ha visto Non t'ha visto, vedi, si guarda intorno, adesso dice Ma dov'è il cicchito ballerito? Dove sarà mai? Ma non ti ha visto, tu stai tranquillo Mantieni, proprio calmo, vedi? Non t'ha visto Tranquillissimo Adesso, quando lei se ne va, adesso tu devi aspettare Aspetta ancora È un gioco di calma, devi essere paziente Ora esci da sotto il letto Piano Esci Ok, fermo! Ma scusami, scusami Ok, adesso vai piano, piano, vai piano, piano Vai piano, piano, vai piano, piano Spizza Spizza Così, così Spizza fuori, bravo Lei dovrebbe essere scesa giù Ha lasciato Aspetta Ha lasciato una trappola, la vedi la trappola? La tolgo? No, non puoi toglierla, non puoi toglierla Non puoi toglierla Vai Sinistra Sinistra Bravissimo Vai nella Aiuto, aiuto Aiuto No, ci sono Ci sono Ci sono Non fare così Ok, vai nella porta Nella porta Bravo, così Ok, allora Devi frugare nei cassetti Fruga nei cassetti Nei cassetti Fruga nei cassetti Questo cassetto qui non c'è niente In quello ne ha Niente qui Va bene, va bene, va bene Allora adesso sposta quelle scatole Le scatole sulla sinistra Le scatole Eh No, 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 dietro, dietro Cioè, il corridoio Quelle, sì, sì Spostale, picchiale Spingi Non così, non così Non così, un disastro Un disastro Spingi le scatole Di più Chico, sta arrivando la nonna Ti devi muovere Corri Vai, vai Mia mia Guardati dietro Guardati dietro Se stava arrivando Guardati dietro No, no, no Forse no Forse no Ok Allora adesso fermo Sposta anche queste scatole Sposta le scatole Ok, verso di qui adesso Sì, sì E ora infilatili dentro Presto Infilo Infilati Intrudi Ok, perfetto Fermo Mi sono Allora, prendi quella fare lì E molla l'ingranaggio Ok Ok Bravo, non l'hai preso Ok Bravo Via Perfetto Adesso ascolta me Fermo Temporeggia Perché secondo me Ora la nonna ha sentito Tutto questo rumore Non uscire Non uscire Ma può venire qui Sì che può venire Sì che può venire Entra nel bus Rimani lì Assicuriamoci che non arriva Ok Adesso se tu ti alzi in piedi Vedrai Che dietro di te Sulla sinistra C'è un pulsante Ok Eccolo Bravo Premilo No, no, no Non lanciare le cose Non lanciare le cose Ok Spingi la parete Spingi la parete ora Bra Perfetto Un orsetto Non prenderlo Non prenderlo Quell'orsetto Se tu lo prendi Devi sapere che la nonna Si imbestialisce Ok Noi ora Non vogliamo che si imbestialisca Quindi Con il tuo oggetto Con quella a fare che hai in mano Che è una chiave Devi uscire da qui Puoi evitare di agitarti Da destra e sinistra Mi sembri Piano Piano Ho paura che arrivi Va bene Vai alla porta Ed esci Ok Vai Piano Non uscire Non uscire Qui non può entrare Tranquillo Vai a spizzare Vai a spizzare Mantieni la casa Se c'è da preoccuparti Te lo dico io Mettiamoci d'accordo Su una parola per il panico La parola per il panico è Panico Marmotte No Marmotte Ok Se io ti dico marmotte Vuol dire che devi scappare Tanto Ok Adesso esci e vai a destra Ok È ovvio Lei è nata all'olio Bravo Non fare il presuntuoso Eh Lo sapete Sganciati Guarda per terra E sganciati Tieni premuto Il mouse Il mouse Ok Che sto facendo Cico Marmotte Marmotte Cico E niente Ma sì ho capito Qual era il problema Dovevi sbloccare il mouse Con il tuo pulsante Della tastiera No È vero È vero È sì È vero sì Vabbè Giorno due Quanti giorni hai a disposizione Quanti giorni hai Hai fatto bene Perché praticamente La porta alla nonna Il secondo giorno Ti chiude nella tua stanza Ok Quindi Perfetto allora Tu devi fare il rumore In modo che lei venga a controllare Ti apra la porta E poi se ne va Quindi adesso tu Mantieni Era calcolato Bravo Mantieni la calma E non ti muovere Dai tranquillo Aspetta Ma non arriva Tranquillo Arriva Arriva Lei ti vuole far credere Che non stai arrivando Quando poi all'improvviso Arriva Tranquillo Oddio Si è rimontato il tavolo Il tavolino Si è rimesso a posto È spiritico Prova a uscire E rirovesciare Prova a aprire la porta Magari non serviva Prova un po' Vediamo Non Eh Eh non serviva Va bene Allora approfittiamone Vai giù dalle scale Giù dalle scale Poi in buca in cucina A destra Ok Attento ai quadri Ok c'è una trappola lì No ho fatto cadere un quadro Ho fatto cadere i quadri Dritto Dietro di me Marvote Marvote Vai dritto 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 Non su dalle Mamma mia Mamma mia Vai apri la porta Apri la Non quella Quella lì bravo Sotto il letto Sotto il letto No 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 Non lo so No 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 Dritto 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 No 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 Sotto il letto Sotto il letto Bravissimo va bene Ok adesso Dobbiamo capire Adesso ascoltami però Mi devi Devi capire Io ti farò una mappa mentale Della casa ok Perché non ci stiamo trovando Allora adesso Chiudi gli occhi e immagina Ok Tu adesso sei qui Sei qui Se tu esci da quella porta E vai a sinistra Ti trovi Nella parte dove eravamo prima Ok Cioè dove c'era l'orsetto Ok Devi riandare lì Per riprendere la chiave Che hai perso quando sei morto Ok 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 Vai Vai Vado Vai Vai Ok Di corsa di corsa Di corsa Sinistra bravo Ok attenzione Vai 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 Ok bravissimo Dove era la chiave Eccola lì Perfetto Ora Giù dalle scale No non qui Non qui Giù dalle scale Giù dalle scale Giù dalle scale Perfetto Bravo Ok adesso Attenzione eh Allora Apri Apri la porta Quella Non qui Quella bravo Sì 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 Vai vai Ok Bravissimo Ok Hai mollato l'oggetto Oh è caduto qualcosa Mi hai sentito Sì sì Riprendi la chiave Riprendi la chiave Riprendi Oh no Dietro la porta Ok Fregatene di qua Vai dritto Va bene Vai dritto Vai dritto Fuori da qui Fuori da qui Fuori da qui Non mangiare il prosciutto Va bene Porca miseria Così non andiamo bene È difficilissimo È difficile perché Io non vedo proprio subito Cioè c'è tipo un ritardo Di mezzo secondo Dai una pubblicità di facebook Ma è morto facebook Vai alla porta Controllasi aperto Prendo il vaso Non prendi il vaso Vai alla porta Ok ok scusami Ok vediamo se è aperta È aperta È aperta Chiudi Chiudi Dai dai Ma sei uno schifo Eh ti ha visto tantissimo Ti ha visto Non mi ha visto Eh secondo me ti ha visto Ti ha visto Ti ha visto Ti ha visto È venuta determinata Ti ha visto Non ti ha visto Non ti ha visto Non ti ha visto Non ti ha visto Calcolato Calcolato Secondo me ti ha visto Ma non ti aveva visto Non ci credo Hai visto Scusami ma è impossibile Va bene va bene Facciamo un test Facciamo un test Per vedere quanto in ritardo Io ti vedo ok Adesso che la nonna esce Aspetta Ha messo una trappola eh Ok Allora tu esci E mi dici Quando esci mi dici marmotte Ok Vai Ok pronto Sì pronto Marmotte Eh perfetto Ti vedo Allora sono i cervelli nostri Che non sono bene in sintonia Chico Tops Va bene Attenzione alla trappola Se ci passi sopra Forse puoi evitare di schiacciarla Passando attento Passando tutto alla destra Ok Tutto alla destra Ma la posso togliere No togliere no Ma passa alla destra Bravissimo Vai giù Giù dalle scale Giù dalle scale Giù dalle scale Bravo Corro però Corri ma non toccare qua Ma sei un disastro Un disastro Allora esci dalla finestra Dalla finestra La finestra Bravo bravo Apri Premi Ok Bravissimo Amma mia Ok Vedi la grata in basso a destra La grata La grata Vai lì La grata E infilati Perfetto Ok Ora sei Bravissimo Bravissimo Sei nelle fogne Della nonna adesso Tutto quello che Stai pestando È la cacca Della nonna Una schifezza Ti vengono le malattie Diventi una nonna Eh no non profumo Va bene adesso Qui in realtà Non è che ci facciamo Più di tanto Però volevo portarvi È impossibile Che sia qui tanto No tranquillo Girati E vai su per le scale Bravo qui Bravissimo Ok Qui potrebbero esserci Delle altre cose Ti do un'illustrazione generale Vedi quella gabbietta No no Questo cosa qui lo prendo No Quello è un po' da genere La gabbietta Cicco Devi ascoltarmi Ok c'è un corvo Vedi che ha le pinze Dentro il corvo Ok Quindi tu devi Però non puoi prenderle Perché se tu le prendi Il corvo ti pizzica Prova 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 Prendi Prendi Siamo amici Ti ha pizzicato Ma non ti preoccupare Va ancora Non provare di nuovo Ti serve da una roba Da dargli da mangiare Quindi per trovarla Adesso ci giriamo E andiamo Giorgi Porca miseria Non vibrare Con la visuale così Guarda una direzione Vai dritto Dritto Così Così Sì Ok dritto Devi sfarfallare di meno Perché se no non ci capiamo Vai lì bravo Spingi Spingi E ti troverai nella stanza Col prosciutto Vedi Non lo puoi prendere il prosciutto Vai dritto Vai dritto Cosa sei Alex Nuggets Ora vai dritto qua Bravissimo Ora giri così Vai nel buio Scendi E adesso vai lì E ti abbassi Bravo Ok Adesso stiamo nello scantinato ora Qua spesso si trova il martello Spingi Però attento Poi ritorna dentro Torna dentro Torna dentro Torna dentro Che ci arriva la nonna Adesso aspettala Adesso aspettala Intanto facciamo il recap Non così tanto dentro Vai più avanti Ho paura Cosa sei una lumaca Ok rimani qui Allora Adesso vedi che davanti a te C'è un paio di scale Vedi no? Delle scale Vedo Ok Se tu le sali Ti trovi Davanti alla porta d'ingresso Ok Dove prima c'erano i quadri Ok Lì Ok Però se tu vai dietro la scala Dietro Passando da sinistra Eh a te Lo sapevo io che lei arrivava Rimani qui Fermo Non avere paura Non ti può raggiungere con le sue dita Ok Invisibile Dai tranquillo Tu vai dietro E giri E praticamente dietro la scala C'è un'altra scala che va giù E ti trovi nel garage Tutto chiaro? Ok Lo farai al mio grido marmotte Ok Sei pronto? Ok pronto eh 3 2 Ma è ancora di attento Temporeggia Temporeggia E si è fermata Aspetta aspetta Sta cacando una trappola Ok 3 2 1 Marmotte Vai Vai Marmotte Marmotte Alzati bravo bravo Gira tutto 300 Bravo così No no Ecco bravissimo Ci sono Adesso controlla se qui trovi qualcosa Perché di solito c'è il martello magari qualcosa Pezzi di fuoco No le munizioni non ti serve Girati Non toccare nulla eh Controlla Hai toccato Hai toccato Hai toccato Ok Prendi quel libro Prendi il libro Il libro Il libro Il libro Il libro Prendi il libro Ok Lo tiro in testa No non glielo puoi tirare in testa Entra nella macchina Entra nella macchina Entra nella macchina Nella macchina No no ma sei un disastro Chico Va bene Ci sono Girati dietro Girati dietro Girati dietro Dobbiamo vedere se arrivi Eccola Fermo Non muovere un muscolo Ok Non mi vedrà mai Non dovrebbe Non dovrebbe Anche se il finestrino è completamente trasparente Però Tu stai fermo Stai fermo Abbi tempo reggiamente Accendo la macchina No no Non hai i pezzi Servono i pezzi In questo gioco ti servono tipo 45 oggetti Per riuscire a fare qualsiasi cosa Ok quindi Però vedi che a fianco a te c'è un cassettino Quello del cruscotto Aprilo Ah si Lo puoi aprire È un po' impossibile Devi aprirlo dall'altra parte Ok Calmo Calmo Ora esci Esci Esco Esci Ok Fermo Allora calmo Prendi il libro Ok Apri Aspetta Sono un po' confuso anch'io Prendi il libro Il libro Il libro Il libro Ok Calmo Adesso Non mi borbottare Non mi borbottare Non sei un giorno Ok La situazione Lo so Lo so Vai dietro Dietro la macchina Dietro la macchina Ora dietro la macchina Non tirare nulla Apri il bagagliaio Attenzione Non fare così Non fa Attenzione Apri il bagagliare È difficile Cico Cosa ti è successo Ok Ok Cico Invertiti Cico Ok Ok Cosa hai fatto Ma sei un disastro Ogni volta Apri il bagagliare Non puoi C'è la chiave Mi dimentico tutto Riprendi il libro Riprendi il libro Va L'ho ripreso Ok No niente Tranquillo Che è successo Ok Allora apri la sauna E butta il libro Nella sauna Ok Non sai cos'è Quella è quella Apri Apri No 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 Hai fatto l'inverso Hai fatto l'inverso Prendilo Buttalo dentro Buttalo dentro E vai in macchina Vai in macchina Vai in macchina No Mamma mia Mamma mia Però Mamma mia Mamma mia Quante vite abbiamo Ancora solo una Tipo mi sa Con questo libro Tu devi aprire Ascolta a me Girando a sinistra Non la prima Ma la seconda porta Quella proprio Girando l'angolo C'è solo una porta Sulla sinistra Ok Perché a destra C'è il corrimano Ok Faccio una mappa mentale Io di questa casa Incredibile Meglio di casa mia Ora Vai Con calma Vai Vai È andata lì Dovete guardare No ha aperto la porta Tu vai 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 Prendi il libro Calmo eh Aiuto aiuto Prendi Non borbotare Ogni volta Prendi il libro Piano No 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 Con calma Con calma Ok ce l'ho Vai Piano 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 Ok Quella porta lì Sì 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 Vai Ha messo una trappolazza Passa a sinistra Passa a sinistra Bravo Con calma Non qui Vai Ok apri Apro Bravissimo Ah Cosa sta Butta le cose Non buttare le cose Ok adesso devi mettere il libro Questo Non Butta il libro qui Butta il libro Butta il libro L'ho buttato Va bene Va bene Ora mettiti sotto il letto Sotto il letto Sotto il letto Bravo rimani fermo A posto Te mi stai a perdere anni di vita Comunque c'è un'ansia incredibile Ok È difficilissimo Non me lo immaginavo così Io immagino gli altri guarda Perché te sei un po' quello un po' più abile Ma immagina con Giorgio Che disastro È impossibile Infatti non lo facciamo forse Vediamo se lo volete un botto Allora esci Esci Piano Passo qui No no Devi rientrare Va bene Sì 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 Mi piace Faccio prima da qui Allora vedi lì c'è un quadro Ma basta ma basta Rimetti di sotto Fermo Se adesso Vai via Non c'è una vita sta nonna Io l'ho sempre odiata per quello Perché non c'ho una vita Perché non vanno a fare un club di cucito No Di mangiare Di carte Non lo so Di carte A giocare a burrato Niente torna là Ok no se ne va di giù adesso Oh se ne va se ne va Ok esci Con calma Ma diciamo se mettiamo il libro No però almeno fai qualcosa Vai 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 Allora adesso Vai sinistra Prendi il tuo libro Ok Adesso devi buttare giù Fermo Devi buttare Fermo Non procedere Girati Girati dietro Ok Vedi c'è un quadro alla parete Quello lo devi buttare giù Spingilo Toccalo Bra Ora tira la leva Tira la leva Porca miseria Ok ora Lì si è aperta la libreria Vai nel Sta arrivando la nonna Va bene Va bene Vai sotto il letto Vai sotto il letto Vai sotto il letto Ognuno ha i suoi tempi No bisogna rispettarti A posto E certo Va bene Stiamo per fare Tranquillo Allora Adesso tu aspetti qualche secondo Che lei se ne le vada alle scatole Poi esci Ok Dove si è aperta la libreria Puoi entrare Troverai un piedistallo Ci metti il libro Ok E scopri un segreto Ok Quindi c'è Complicatissimo È una vittoria No scopri un segreto Ok la nonna è lì La vedi sta passando Sì Se ne sta andando Se ne sta andando forse In realtà secondo me si è fermato Prova a uscire Prova a uscire Vediamo cosa otteniamo Passiamo da di qua Con calma Ok Ti intrufoli Metti il libro Bravo Boom Ma sei un disastro Ma perché lo fai tutte le volte Fai bene Metti il libro No 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 ma te No io non ti voglio bene così però Perché lo butti Perché lo butti E non lo so Scusami Niente Vai Vai Ok Corro Corro Attento che c'è la trappola Vai 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 Ok riprendi il libro L'hai mollato Sono convinto Convinto Ok prendi il libro Prendilo Mettilo L'hai buttato di nuovo Ok Ok ce l'hai fatta Non arriva Arriva sicuro Però guarda il segreto almeno Guarda il segreto Oddio C'è la nonna La sorella della nonna morta È terribile È bruttissimo Bene Io mi sento soddisfatto già così Perché di più di così Non ce la si può fare Quindi Devi vedere però il finale Quindi esci E sacrificati Ok Impasto alla nonna Ok basta Eccola lì È brutto Stava venendo a prenderti Perfetto Questo era il tuo ultimo giorno Quindi adesso vedrai un finale Guarda In percentuale Sei riuscito a fare tipo un Due per cento del gioco Non hai trovato un cacchio Ma come in due Eh sì Adesso guarda È nel soffitto Nell'attico Mi sa che ti butta Ah questo è il finale nuovo Mi sa eh Cosa ti fa E dove sono Eh te l'ho detto Nella soffitta Adesso mi sa che ti butta Metti nella scatola adesso Magari Ah no Ti spinge di sotto Ti spinge di sotto Guarda eh Ma è bruttissimo Eh lo so È una nonna Fa schifo Cosa vuoi che succeda Ti dà un ceffone Ti dà un ceffone Ti spinge di sotto Che bruè È su una trappola Ma che bello La testa Va bene Allora mi raccomando Fateci sapere se volete vedere Degli altri episodi Dove qualcuno gioca E io provo a fare da navigatore Anche se è venuto malissimo Ma forse farò pratica E per questa volta Lion e Chico out Puta